La parola di oggi è circonfuso, deriva dal latino circunfusus, participio passato di circonfondere. Letteralmente vuol dire avvolto, circondato, pervaso, sparso intorno, ma è un termine usato soprattutto per rappresentare una persona o un ambiente che è avvolto in un qualcosa di impalpabile, sia con riferimento a fenomeni naturali, essere circonfuso da una luce, dal vento, dall'aria, un locale circonfuso di luci, sia con riferimento a immagini allegoriche. Anzi, proprio questo è l'utilizzo più frequente. Parlando ad esempio di apparizioni, si usa dire aveva il capo circonfuso da una reola luminosa, oppure per rappresentare il fascino morale di un eroe si può dire ad esempio ne è uscito sconfitto eppure circonfuso di gloria. I poeti ne hanno fatto frequente uso. Leopardi, parlando di Aspasia, la compagna di Pericle e centro di attrazione di scrittori e pensatori, la descrive con incisiva immagine dicendo «A me si offerse l'angelica tua forma, inchino il fianco sovra nitide pelli e circonfusa d'arcana voluta». Nel libro «La figlia del rabbino» lo scrittore americano di origine lituane Chime Grade descrive l'autorevole ma soprattutto autoritaria figura della protagonista concludendo l'immagine con la frase «Era circonfusa da un'aura prodotta dal suo alto lignaggio e dal modo elegante di parlare», frase che ne fa vedere tutto il timore reverenziale che generava nei suoi interlocutori.